Sì, mi chiamo Perry King. Hola, sono Santiago Miranda. Benvenuti nel nostro studio. Noi lavoriamo da qua. La cosa che era molto importante per noi era di sviluppare nuove tecnologie che ci permette il radiatore davvero thin. Questo abbiamo potuto fare usando un'aluminio, un honeycomb con due servizi di aluminio, con un graficitato. Questo è stato molto importante e ha dato una possibilità di fare qualcosa che aveva un prodotto molto thin con una vasta varietà. Quindi questo non è un prodotto con solo una forma, ma è un prodotto che può avere molti diversi formi e perché è estremamente light, possiamo posizionarlo in un posto che altrimenti non sarebbe mai potuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel profondo c'è un desiderio di far sì che questa pelle sia qualcosa di anche un momento per Runtal e noi di sperimentare delle cose sulla percezione delle persone. Foglio utilizza tecnologie straordinarie avanzate che abbiamo sviluppato assieme con Runtal, ma soprattutto utilizzando materiali che non sono stati utilizzati nel mondo del calorifero prima. Quindi hanno un contenuto tecnologico che è estremamente importante. Ma questo non basterebbe per Runtal perché la Runtal e noi siamo convinti che questa roba va in casa delle persone. Sì, va in casa delle persone e anche ha un rapporto molto direi diretto con l'intorno e questo vuol dire essere capace anche di immaginare come si comportano queste cose. Io direi concordi con l'intorno dell'architettura. Questo è importante perché i nostri amici architetti sappiamo che vogliono utilizzare prodotti che siano neutrali, questo prodotto lo è, ma anche capace di vestirsi di pelle vicine all'architettura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'inizio l'esplorazione che abbiamo fatto delle forme possibili, che sono quasi infinite, ci ha portato a fare una presentazione alla Runtal delle forme più stravagante. Però quando abbiamo cominciato a analizzarle con loro e fra di noi, alla fine siamo riusciti a concentrare su forme più essenziali. Potendo lavorare su questi materiali o su questo materiale è diventato subito molto più un lavoratorio di forme. Ricordi? Tagliavamo con grande libertà e poi integravamo in delle forme e poi pensavamo, ma questo è in una stanza dove potrebbe stare? Abbiamo tentato di fuggire, abbiamo fuggito di tutte le standard misure e le forme per dire possiamo fare quello che vogliamo e possiamo anche finire con questo bordo molto soft. Le direzze vuol dire anche minore quantità di materiale, molte volte, un materiale più figlio. E questo è stato, credo, anche tra le primissime cose che ci ha interessato nella ricerca. Ma unito a questo c'è sempre questo desiderio di utilizzare basse temperature nell'acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.